Siamo con il sindaco di Treviso Manildo, parliamo del problema sicurezza. Dall'opposizione sono stati lanciati vari allarmi. Diciamo che l'amministrazione sta lavorando seriamente in sinergia con tutte le istituzioni, con tutti gli enti che hanno delle responsabilità in tema di sicurezza. Con la prefettura stiamo chiudendo il tema del patto di sicurezza e proprio ieri abbiamo presentato il controllo del vicinato, un protocollo che unisce cittadini, forze dell'ordine e prefettura per un controllo sempre più puntuale nella sicurezza nei propri quartieri, nelle proprie vie, nelle proprie città. Questo è molto bello perché è una comunità che si muove. Treviso ha saputo interpretare, come ha fatto prima Luca, questo sentimento. Quindi stiamo andando avanti per dare una risposta effettiva sulla sicurezza ai nostri cittadini. Stiamo ancora chiedendo che vengano ripristinati i fondi sulla sicurezza che il Veneto ha tagliato, che il presidente Zai ha tagliato, perché parlare di sicurezza lanciando allarmi e non trovando soluzioni penso che sia uno sport non proprio bellissimo. Su questo è importante fare tutti la propria parte. Come Comune di Treviso ci siamo assunti le nostre responsabilità e è molto bello il fatto che anche tutte le forze dell'ordine e il prefetto e il questore siano su questa linea e la settimana prossima firmeremo il patto per la sicurezza. E chi parla di autodifesa? Ma io penso che sia sempre la preoccupazione di chi gestisce la cosa pubblica deve essere quella che tutti i cittadini non abbiano delle ripercussioni negativi. L'autodifesa può essere pericolosa per chi la pratica quindi dobbiamo cercare di non incitare a delle forme disordinate di controllo del territorio ma dobbiamo cercare di organizzarle. Il controllo del vicinato che abbiamo proposto noi è anche un sistema di autodifesa di controllo capillare del territorio, di sicurezza partecipata, di rette partecipative di sicurezza però con alcune regole che la fanno diventare non solo efficiente ma più tranquilla e meno pericolosa per chi la fa perché molto spesso se in tema di sicurezza si lascia andare al pesacopochismo, al volontariato è pericoloso per chi lo fa. Da sindaco ma anche da avvocato cosa pensa del caso Stacchio? Ma penso che sia una questione che è stata assolutamente montata e strumentalizzata non conosco gli elementi per come avvocato dare il mio giudizio sulla questione certo che il tema dell'autodifesa da parte di qualcuno è un tema che va approfondito e regolamentato cercando di non punire eccessivamente i casi è però importante che la proporzionalità venga sempre rispettata perché altrimenti, come ho detto prima, l'autodifesa senza regola fa diventare una comunità un far west e questo non ce lo possiamo permettere.